Come posare le perline in legno Livello di difficoltà, un martello Disponibili in diversi stili, finiture e formati, le perline in legno sono facili da posare, compensano piccole irregolarità del muro e migliorano l'isolamento dell'ambiente. Serviranno perline in legno, travetti piallati con sezione minima di 13x27 mm, ganci di fissaggio, chiodi a testa piccola, tasselli con viti a chiodo, cune incompensato, graffe, colla, angolari interni, paraspigoli, piattine, morsetti e una scatola per cartongesso. Dobbiamo avere a portata di mano un cutter, un flessometro, una matita, una livella, una stadia, una squadra, una pistola per silicone, un seghetto alternativo, un piano da lavoro, un tagliacornici o un segaccio e una cassetta tagliacornici, un trapano a percussione, una punta da legno, una punta per calcestruzzo, una fresa, una graffatrice, un martello, un punteruolo, una sega a tazza, un tronchese, una pinza spelafili, un giravite isolato e una scala. Rimuoviamo l'imballo almeno 24 ore prima della posa per permettere al legno di adattarsi al tasso d'umidità dell'ambiente. Appoggiamo le perline sui travetti. Prese e interruttori. Scolleghiamo la corrente elettrica e smontiamo prese e interruttori. Per sicurezza proteggiamo i fili scoperti con i morsetti. Il tipo di posa. Le perline si fissano su una struttura di travetti perpendicolare al senso di posa delle perline, che può essere verticale, orizzontale o diagonale. Posiamo le file di travetti a 50 cm di distanza e con uno spazio di 3-4 cm tra loro per consentire all'area di circolare. Nella posa in diagonale, una cornice di sostegno aumenta la rigidità della struttura. Le tracce sulla parete. Tracciamo una linea orizzontale sopra il battiscopa e una a 5 cm dal soffitto. Partiamo dal basso e tracciamo una linea ogni 50 cm, dividendo al meglio lo spazio per il penultimo travetto in alto. Su un muro perfettamente piano, fissiamo i travetti con la colla. Sui muri con crepe o bozze, posizioniamo dei cunei dietro ai travetti per compensare la verticalità. Preparare i travetti. Per permettere all'area di circolare, i travetti non devono superare i 150 cm di lunghezza. Tagliamoli a misura e pratichiamo un primo foro a 10 cm dal bordo e i successivi a 43 cm di distanza, in modo da terminare a 10 cm dall'altra estremità. Riprendiamo i fori con la fresa per incassare le teste delle viti. Posizioniamo il primo travetto sulla linea orizzontale in basso a 2 cm dal bordo. Foriamo il muro in corrispondenza dei pre-fori. Fissare i travetti. Inseriamo i tasselli nei fori e lasciamoli sporgere per 3 quarti della loro lunghezza. Posizioniamo il travetto successivo a 3-4 cm di distanza e quelli sopra sfalsati, con una disposizione a scacchiera. Fissiamo un travetto sopra le porte, sopra e sotto le finestre. Se prevediamo di montare mensole oripiani, rinforziamo il sostegno con travetti supplementari. La verticalità della struttura. Verifichiamo con la stadia e la livella e, se necessario, colmiamo eventuali dislivelli con i cunei. Poi avvitiamo le viti nei tasselli fino in fondo. La prima fila. Tagliamo la linguetta della prima perlina con il seghetto alternativo dal retro. Posiamo da sinistra a destra, con la scanalatura nel senso di avanzamento, se usiamo i ganci. Lasciamo uno spazio di dilatazione di 3-4 mm dal pavimento e dal muro e regoliamo la verticalità. Fissiamo la perlina con i chiodi in corrispondenza dei travetti e in basso. Nascondiamo le teste dei chiodi con il punteruolo. Inseriamo il primo gancio. Battiamo con il martello e fissiamolo con la graffatrice. Ripetiamo in corrispondenza di ciascun travetto. Misuriamo lo spazio rimanente fino al soffitto, sottraiamo 3 mm per la dilatazione e riportiamo la misura sulla perlina. Tagliamola con il tagliacornici. Poi fissiamola ai travetti. Le file successive. Allineiamo la perlina a quella posata e inseriamola nei ganci. Battiamola per farla entrare a fondo. Fissiamo i ganci in corrispondenza di ogni travetto e completiamo la fila con i tagli necessari. Ogni tre file verifichiamo la verticalità con la livella. Contro la parete. Arrivate alla parete, fissiamo i ganci con i chiodi. Tagliamo le perline nel senso della lunghezza e inseriamole con una piccola rotazione. Poi fissiamole con i chiodi. Le porte e le finestre. In prossimità di una porta o di una finestra, tracciamo la linea di taglio con precisione. Eseguiamo prima il taglio perpendicolare, poi terminiamo nell'altro senso. Fissiamo la perlina con i chiodi e graffettiamo i ganci, le prese e gli interruttori. Prendiamo le misure, poi foriamo la perlina con la sega a tazza. Fissiamo la perlina. Inseriamo la scatola, colleghiamo i fili e rimontiamo la presa con la sua mascherina. Se desideriamo dipingere gli elementi in legno grezzo, facciamolo almeno 48 ore prima della posa. Incolliamo i profili in alto, le piattine e i battiscopa. Posiamo il paraspigoli e tutti i profili necessari per rifinire il lavoro. Posate in orizzontale, verticale o diagonale, su tutte le pareti della stanza o su una soltanto, le perline in legno si abbinano a tutti gli stili e donano calore all'ambiente.